Due membri di una banda di narcotrafficanti legata all'Andrangheta sono stati estradati in Italia dal Paraguay dopo che il 30 maggio erano sfuggiti all'arresto. La Guardia di Finanza, in collaborazione con la Polizia di Frontiera dell'aeroporto di Fiumicino e con il supporto dello Scico, ha dato corso alla cattura dei due appartenenti a un'associazione a delinquere dedita al traffico internazionale di droga. A luglio i due erano stati individuati nel paese sudamericano e arrestati dalla polizia locale, unitamente ad altri due soggetti, un brasiliano e un paraguaiano. I due, entrambi si chiamano Giuseppe Giorgi, hanno 26 e 22 anni, erano giunti all'aeroporto di Madrid il 15 luglio dove erano stati presi in custodia dalla polizia spagnola in attesa dalle estradizioni in Italia. Dalle indagini è emerso che avrebbero rivestito un ruolo di assoluta rilevanza nel suo dalizio criminale in quanto contigui una pericolosa cosca di Andrangheta e uomini di fiducia del principale promotore dell'associazione, Giuseppe Romeo, da cui avevano ereditato una vasta rete di contatti nel mondo del narcotraffico internazionale. Gli arresti sono avvenuti nell'ambito di una complessa indagine diretta da Roberto Ceroni della Direzione Distrettuale Antimafia di Bologna, durata oltre due anni, che ha portato al sequestro di 43 kg di cocaina e hashish, in flagranza di riato e all'arresto di quattro soggetti italiani. L'indagine coordinata dalla Procura Nazionale Antimafia ha portato anche al sequestro di beni per un valore complessivo di 50 milioni di euro.